Corea del Nord è mistero sulla salute del leader Kim Jong-un che ha disertato gli ultimi appuntamenti pubblici. Allora, in diretta ci riferisce la nostra corrispondente Giovanna Botteri. Secondo un sito sudcoreano, il leader sarebbe in questo momento in una clinica tra la vita e la morte dopo un'operazione al cuore e queste sarebbero le ultime immagini pubbliche che si sono viste di Kim. Lui in mezzo alla neve su un cavallo bianco. Da Pechino, smentita della notizia, non ci sono certezze, non ci sono fonti che dicono che Kim stia male, sostiene la Cina che in questo momento è alle prese con la fase 2. Vediamo. La vita riprende dolcemente Orhan, tagliata fuori dal mondo per 76 giorni dopo l'esplosione.